Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi come vi ho visto dal titolo vi farò vedere il tour della casa della mia nonna questa camera dove lavoravo il mio zio e il mio babbo di guai ovviamente ce l'ho tutto a disposizione qua c'è una fata dove ci sono poi tutti i bubaci e poi ce l'ho da c'è non lo so, ci vedete meglio come ecco poi c'è questo questo faccio non lo faccio mi piace hanno ranni faccio ma chelatsa possiamo spegnere la luce ovviamente c'è come in tutte le case il bagno il bagno ovviamente con una bella luce con una luce con una luce con una luce non c'è allora lo c'è lo c'è dove c'è tutta la roba ovviamente fuori c'è un altro bagno il salotto la cucina un bel terrazzo di acqua ovviamente un'altra terrazza un'altra terrazza di acqua che si apre con queste chiavi con queste chiavi se sentirei un po' a parlare il mio fratello mi sta girando un video no e riccio l'aprile eccoci capt non sta camp post r l pop il si chiude o il 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 la manzarda il 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 amici